Togliere ai poveri per dare ai ricchi. Autonomia differenziata. È il provvedimento che il governo giallo-verde si accinge a definire tra il Veneto, Lombardia e l'Emilia-Romagna. La quantità di risorse che lo Stato trasferirà alle tre regioni ricche, togliendole dunque a quelle più povere, con un danno miliardario per le casse della Sicilia. Data della firma dei tre presidenti, il 15 febbraio prossimo. Il presidente della regione siciliana Musumeci e il suo vice Armao non temono nulla ed anzi dichiarano applicare l'autonomia per un regionalismo differenziato non porterà alcun danno alla Sicilia, considerato il dialogo che l'esecutivo di Musumeci intreccia con il governo nazionale per meglio organizzare le risorse finanziarie. La richiesta al governo centrale è quella, sostengono Musumeci ed Armao, di poter trattenere ingenti somme così da consentire all'isola di essere ancora più autonoma. I presidenti delle tre regioni del nord sono pronti a sottoscrivere l'intesa dopo un percorso iniziato con un referendum in cui i cittadini di quelle regioni hanno risposto quasi con un plebiscito. Si firmerà l'intesa ma ancora non si conosce nulla di quello che c'è scritto. Si sottolina che molte risorse saranno direttamente gestite dalle regioni autonome. L'equazione sarà più semplice da realizzarsi, più soldi, più servizi. Un paese che avrà due velocità dicono in molti e ad oggi non esiste un vero piano di sviluppo per il meridione. Alcuni ritengono che sia l'inizio della secessione con un paese come il nostro che si spaccherà in due. La parte più produttiva si sgancia da quella parte d'Italia a cui non sono stati mai dati tutti gli strumenti di sviluppo economico percorrere alla pari. Il CNR stima che per le competenze richieste dalle tre regioni, salute, lavoro, ambiente, attività internazionale e distruzione, lo Stato dovrebbe riconoscere loro 21,2 miliardi ma nessuno si sbilancia sulla quota che potrebbe essere sottratta alla Sicilia. Il rischio è che i 21,2 miliardi stimati dal CNR siano la cifra minima riconosciuta alle tre regioni che non restituirebbero l'eventuale surplus al loro vantaggio ma otterrebbero un aiuto ulteriore dallo Stato se i costi dovessero aumentare. In poche parole più soldi ai ricchi, sicuramente i migliori servizi alle regioni che oggi producono efficienza e qualità organizzative, dalla scuola alla sanità ai servizi pubblici alle università. I numeri sono impietosi e dimostrano una forte differenza tra gli investimenti pubblici al nord e dal sud e quindi anche in Sicilia dove arriva meno del 34% rispetto al nord. Conti alla mano in Sicilia ad esempio negli ultimi 15 anni hanno visto segnare un arretramento ulteriore sulla dotazione ferroviaria, portuale e delle infrastrutture rispetto al resto del paese. Stesso discorso per ponti e strade. A cosa porterà tutto questo? Lo sapremo sicuramente nei prossimi anni.